hai preso tre gol in dieci minuti milanista all'inter devi pensare diglielo devi pensare all'inter pensa all'inter tu intanto sfrank 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 dieci minuti hanno preso tre gol in dieci minuti un amico interista falsa inter tre gol in dieci minuti non pensare all'inter che ti fa male al cervello ti fa male al cervello pirla tre gol in dieci minuti è un bel sabato è vero hanno preso ventisettesimo quarantesimo e quarantaseiesimo sfrank 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 e sfrank adesso il sabato può cominciare bene sono già a tre cicchetti lui è a due cicchetti perché lui non può bene stella sfrank sfrank sfrank